Ciao a tutti e ben ritrovati su Sky Air Planet, io sono Mettitore e oggi torneremo a giocare con Resident Evil. L'ultima volta stavamo per entrare nella botola e scoprire che fine ha fatto il nostro Andre. Mettetevi comodi e iniziamo. Riprendimi tipo eroe mentre scendo. Beh, allora vai pure. Che cosa vedi? Che cos'è? Ok. Della sua postura e della macchia sotto presumo non stia bene. Mi sa che Andre si è fatto male. Aia. 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 Si è fatto male. Molto, molto male. Ok. Cristo! Andiamo anche a noi. Ok va. Sicuramente ci scendo io. Eccolo. Ma che botta. Pezzi di Andre? Pezzi di Andre? Eccolo. Che bello. Ok. Ok. Va tutto bene. Non va tutto bene. Non va per niente tutto bene. Siamo sotto la trave gigante. E' Andrea il suo amico, presumo. E' un'altra cosa. Che bello. Che bello. Tutti i personaggi scomparsi immagino. Grazie a tutti. Chi è stato? Ok, andiamo. Ok, forse abbiamo trovato Mia. Qui che c'è? Ben, Harold, Turned. Mia, è ancora viva. I dati sono trasformati oppure morti. Ok, è certo che mi prendo le tronchesi. Le tronchesi. Mia? Mia, per fortuna sei viva. Sono io, sono Ethan. Ethan? Ethan! Ehi, stai bene? Tu non dovresti essere qui. Ma che vuoi dire? Mi hai contattato tu. No, non sono stata io. O forse... Oh, oh. Qualcuno ti ha visto entrare? Lui ti ha visto? Lui? Ma c'è qualcun altro. Che diavolo succede qui? Sta arrivando papà. Dobbiamo andarcene. Papà? Dobbiamo andarcene adesso. Papà qui? Dove mi porti? Non ero sicuro. Vuoi dire mi cosa sta succedendo? E ti creduto a morta per tre anni. Tre anni? Sei sicuro di quello che dici? Viva vissi. Ma che posto è mai questo? Che ti hanno fatto? Non adesso. Dobbiamo trovare una via d'uscita. Forse da questa parte. Forse. Mia, noi dobbiamo parlare. Il messaggio che hai mandato. Credimi. Quella non ero io. Ma l'hai fatto. Non sono stata io. Ok, d'accordo. Ma dimmi che sta succedendo. Ti sto dicendo tutto quello che so, Giulo. Dobbiamo andare di qua. Non l'avete tanto convinta, eh? Mia, sai dove stiamo andando? Qui la famiglia mi passava da mangiare. Sì, me lo ricordo. Qui la famiglia mi passava da mangiare. Mi ricordo la stanza. C'è un'altra porta. Ne sono sicura. Non c'è più. È sparita. È sparita. Saremo una famiglia. Ora che tu sei qui, sono sicura che ci sia un'altra porta. Non c'è più che ci sia un'altra porta. Mia! Eh, ma che cavolo, però. È 001. Saremo una porta. 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 ok mi sto aspettando è certo che c'è la pioggia mappa della casa vi provo a dare la mappa perfetto cantina di postiglio qui c'è un simbolo abbiamo il bagno entrato sul retro ah sono dove ero prima praticamente perfetto qua era dove ero prima ho sbagliato ho sbagliato il piano di sopra c'è un attico ok andiamo un po' di medicina e non la fanno male qui è 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 oppure è smerso di piovere vedi devo andare giù oddio è la madonna che male Mia è fuori di testa non riesco a sentirla io riesco a sentirla lottare dentro il mio corpo madre mia la lasciami stare è giusto sono stata cattiva che ti hanno fatto Mia? non penso si risolve così eh la lasciamo qua è che cavolo vattene vabbè vabbè sono morto è che cavolo la coppata non saresti dovuto venire qui chi sei? e che cazzo succede? mi chiamo Zoe forse puoi uscire dall'attico attico adesso vai, subito ok oh è lei ottimo andiamo dove dice lei aspetta che saldiamo ok salva si bene ragazzi per oggi è tutto grazie per averci seguito e al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti